ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale io sono andrea e questo è sempre curiosando Lanzarote questa sera ragazzi siamo qui a puerto del carmen all'ora del tramonto per farvi vedere questa splendida avenida e mi raccomando ragazzi come vi dico sempre se ancora non l'avete fatto cliccate sull'icona iscriviti attivate la campanella per non perdervi nessuno dei nostri video bene detto questo siamo pronti per il video ma prima di tutto la nostra sigla una cosa mi sono dimenticato la settimana prossima farò un video perché ci sono delle importantissime novità per quanto riguarda i turisti inglesi e tedeschi mi raccomando non perdetevi il video iscriviti al canale 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti